Allora, qui c'è Maurizio. Maurizio, chi è il tuo giocatore di tennis preferito? Djokovic. Djokovic. Da quanti anni giochi a tennis? Questo è il mio secondo anno. Già sei così bravo? Eh, abbastanza. E senti, questa domanda purtroppo la devo fare a tutti, perché poi siete piccoli e dovete andare a scuola. A scuola? Bene, bene. Bene. E anche a te, preferisci scuola o tennis? Tennis. Forte applauso.